Benvenuto su questo video. In questo video verrà trattato la propulsione a curvatura fisicamente plausibile. Il pensiero di una propulsione a curvatura, che garantisca il viaggio tra le stelle, alla ricerca di nuovi mondi e nuovi civiltà, ha da sempre affascinato scienziati ed appassionati di fantascienza. Il viaggiare a velocità superiori a quella della luce rappresenta un tipico espediente narrativo al quale si è cercato di associare un modello fisico. Per il modello della propulsione a curvatura, semplificando il concetto, si suppone che lo spazio sia un foglio di carta e che ci si debba spostare da un punto A verso un punto B. Per compiere tale spostamento, la cosa più logica sarebbe viaggiare in linea retta attraverso il foglio. La teoria della velocità di curvatura ipotizza però che è possibile piegare il foglio di carta, riducendo la distanza tra A e B, cioè arrivandoci in modo più diretto, impiegando dunque molto meno tempo. Sicuramente con la nostra tecnologia attuale siamo molto lontani dall'avvicinarci ai limiti della velocità della luce. Nulla però vieta di pensare che nel futuro si possa arrivare a viaggiare sulle onde dello spazio tempo deformate e non avere più il limite della velocità della luce. Il superamento della velocità della luce, la fantascienza lo ha risolto in molti modi fantasiosi. Quello certamente più noto e forse il più affascinante è il motore a curvatura delle serie Star Trek, in grado di catapultare più o meno istantaneamente l'astronave interstellare Enterprise a molti anni luce di distanza. Purtroppo si tratta solo di un brillante e riuscito artificio narrativo, senza alcuna base di fattibilità nel mondo reale. Questo almeno fino al 1994, quando apparve sulla rivista classica Land Quantum Gravity un articolo del fisico messicano Miguel Al-QBR, intitolato, The Warp Drive, Hyper Fast Travel Within General Relativity, il motore a curvatura, viaggio iperveloce nell'ambito della relatività generale. Miguel Al-QBR ha conseguito la laurea in fisica nel 1988 ed un master di laurea in fisica teorica nel 1990, entrambi presso l'Università Nazionale Autonoma del Messico. Attualmente lavora presso l'Istituto di Scienze Nucleari della Università Nazionale Autonoma del Messico e svolge attività di ricerca nella relatività numerica, elaborando e risolvendo al computer le equazioni fisiche proposte per primo da Albert Einstein. La soluzione d'onda proposta dal QBR nel suo articolo del 1994 per le equazioni di campo di Einstein può anche dimostrare che la relatività generale è coerente con la verifica sperimentale della non-località della meccanica quantistica. Questo lavoro contrasta l'idea che la non-località quantistica finirebbe per richiedere di abbandonare la struttura matematica della relatività generale. Al QBR sviluppò la sua originale teoria a partire da un dettaglio importante della relatività generale. Viaggiare più velocemente della luce è impossibile sì, ma solo localmente. Ciò vuol dire che in nessun punto dello spazio un oggetto dotato di massa può violare il limite della velocità della luce, ma nulla impedisce, nell'ambito della relatività generale, che lo spazio stesso si dilati o si contragga senza limiti di velocità nel farlo, simile a una sorta di tessuto elastico tirato o allungato da una mano potentissima. Del resto, molti cosmologi sono concordi nel ritenere che una gigantesca dilatazione dello spazio sia già avvenuta in passato, nei primi istanti dopo il Big Bang, e sia stata la causa a monte della straordinaria omogeneità di distribuzione della materia in ogni direzione spaziale, rilevata attraverso lo studio della radiazione cosmica di fondo. Secondo questa teoria, la cui prima formulazione si deve al fisico americano Alan Gutt nel 1980, l'universo attraversò una fase di espansione esponenziale, chiamata inflazione. L'inflazione, generata dalla pressione negativa esercitata dall'energia del vuoto, durò un tempo brevissimo, situato nel primo secondo dopo l'istante del Big Bang. In questa infinitesima frazione di secondo l'universo crebbe a dismisura, aumentando di volume di un fattore superiore a 10 elevato alla trentesima potenza. Durante l'inflazione, fu lo spazio stesso a espandersi, in modo simile a un palloncino che viene gonfiato. In altre parole, anche se la dilatazione avvenne a una velocità di gran lunga molto maggiore di quella della luce, non ci fu violazione del limite imposto dalla relatività. Se all'inizio del processo di espansione inflazionistico, ci fossero stati degli osservatori in grado di vedersi reciprocamente, sarebbero stati trasportati dalla dilatazione dello spazio l'uno al di fuori dell'orizzonte dell'altro senza che nessuno dei due avesse viaggiato, localmente, a una velocità superiore a quella della luce. Per di più, se consideriamo l'universo osservabile nel suo insieme, lo spazio continua ancora adesso a dilatarsi a velocità maggiore della luce, senza che alcun oggetto viaggi localmente a velocità maggiore di quella della luce. Partendo da questo principio, al QBR presentò nel suo articolo del 1994 una serie di equazioni che dimostravano la possibilità teorica, nell'ambito della relatività generale, di creare una distorsione locale dello spazio-tempo, in virtù della quale lo spazio potrebbe essere dilatato alle spalle di un'ipotetica astronave spaziale e contratto davanti ad essa. È possibile servirsi di questo meccanismo di contrazione-espansione dello spazio-tempo per far viaggiare un oggetto a una qualsiasi velocità, senza limite, all'interno dello spazio-tempo dell'universo. Questa è la base del modello per il viaggio spaziale a velocità maggiori di quella della luce. In questo modo la nave spaziale è all'interno di una bolla spazio-temporale che si sposta all'interno dello spazio-tempo dell'universo a velocità anche di molto superiore di quella della luce e che quindi sarà in grado, in tempi ragionevoli, di raggiungere destinazioni distanti anche anni luce dalla Terra. È possibile poi invertire il processo per tornare indietro sulla Terra, impiegando un tempo arbitrariamente breve per completare il viaggio di andata e ritorno. La cosa notevole del modello teorico di Al-QBR è che la nave spaziale e i suoi occupanti verrebbero a trovarsi in una sorta di bolla isolata dagli effetti della distorsione spazio-temporale che li circonda. Gli astronauti non avvertirebbero alcuna accelerazione né subirebbero le terribili forze che si generano al confine della distorsione. Cosa più importante, il loro tempo non sarebbe dilatato, per cui potrebbero andare verso la stella di destinazione e fare ritorno sulla Terra senza subire nessun sfasamento cronologico se non quello causato da una propulsione tradizionale al di sotto della velocità della luce. Nella bolla isolata in cui si troverebbe l'astronave, nulla viaggerebbe più velocemente della luce, ma tutto, luce compresa, sarebbe trascinato dalla distorsione creata dal motore a curvatura verso la destinazione prescelta. In questo modello, la velocità del viaggio dipende in sostanza dall'entità della distorsione generata dal motore e che lo spostamento consiste nello spostarsi nello spazio-tempo dell'universo non dell'astronave ma della bolla spazio-temporale che la contiene, trascinando l'astronave con sé. Inoltre la velocità dello spostamento di questa bolla nello spazio-tempo dell'universo è teoricamente senza limiti. Nell'articolo del 1994 The Warp Drive, Hyper Fast Travel Within General Relativity, al QBR propose questo motore a curvatura spazio-temporale con cui un veicolo spaziale potrebbe viaggiare ad una velocità senza limite, anche molto maggiore della velocità della luce. Questo motore proposto da Miguel Al-QBR, per funzionare richiede l'impiego di una massa negativa per imprimere allo spazio una curvatura opposta, rispetto a quella generata dalla massa e dall'energia normale usuale. Questa massa è impossibile da ottenere, secondo le leggi della fisica conosciuta fino ad ora. Il motore a curvatura di Al-QBR funzionerebbe creando una bolla di spazio-tempo piatto attorno all'astronave e curvando lo spazio-tempo attorno a questa bolla si riducono le distanze. Il problema di questo motore a curvatura è che richiede una massa negativa, un tipo di materia solo teorizzato, oppure in alternativa un anello di energia negativa intorno all'astronave, per funzionare. I fisici non hanno mai osservato la massa negativa, quindi l'energia negativa rimane l'unica opzione. Per creare energia negativa, un motore a curvatura potrebbe utilizzare un'enorme quantità di massa per creare uno squilibrio tra particelle ed antiparticelle che si creano in continuazione nello spazio per l'energia di punto zero del vuoto, secondo la meccanica quantistica. Ad esempio, se un elettrone ed un antielettrone apparissero vicino al motore a curvatura, una delle due particelle verrebbe attirata ed intrappolata da questa grande massa e questo si tradurrebbe in uno squilibrio. Questo squilibrio porterebbe ad un'energia negativa ad alta densità. Infine il motore a curvatura di Al-QBR userebbe questa energia negativa per creare la bolla di spazio-tempo intorno al veicolo spaziale. Ma affinché un motore a curvatura generi abbastanza energia negativa, necessiterebbe di molta materia. Al-QBR ha stimato, nel suo modello, che un motore a curvatura con una bolla spazio-temporale di 100 metri richiederebbe la massa dell'intero universo visibile. Nel 1999, il fisico Chris Van den Broeck ha mostrato che espandere il volume all'interno della bolla mantenendo la superficie costante ridurrebbe significativamente il fabbisogno di materia alla massa del pianeta Giove. Un miglioramento significativo, ma ancora ben al di là della realizzabilità. Nel 2011, il fisico Harold White ha pubblicato un documento intitolato Warp Field Mechanics 101 nel quale dimostrava che una distribuzione toroidale intorno all'astronave di materia esotica, cioè materia composta prevalentemente da particelle effimere, che decadono dopo poco tempo dalla loro produzione, si poteva ridurre la massa energia richiesta per far viaggiare un'astronave macroscopica, dall'equivalente della massa di Giove a quello della navicella spaziale Voyager 1, circa 700 kg o meno, una quantità di energia per creare la materia esotica ancora troppo elevata, corrispondente all'incirca all'energia liberata nell'esplosione di mille testate nucleari, e quindi non ancora nelle possibilità di un reattore nucleare per poterla realizzare ma, fornendo ai ricercatori e dagli appassionati di fantascienza almeno un barlume di speranza che un motore a curvatura possa un giorno diventare realtà. Inoltre in questo documento proponeva che era possibile eseguire esperimenti su piccola scala della costruzione di tali campi di curvatura. usando un interferometro come quello di Michelson Morley modificato, anche se Miguel al QBR ha espresso scetticismo in proposito. White ha apportato miglioramenti al suo modello originale e nel 2003 e nel 2011 sono stati fatti passi da gigante nella teoria, apparentemente rendendo l'impossibile un po' più possibile. Oggi il modello leader per i viaggi più veloci della luce è soprannominato al QBR, White Warp Drive. Un documento successivo, proposto da Alex e i Bobri che Gianni Martire fornisce una soluzione che sembra avvicinare il motore a curvatura alla fattibilità. Bobri che Martire hanno trovato che modificando in un certo modo la geometria dello spazio-tempo all'interno della bolla, avrebbero potuto eliminare la necessità di utilizzare energia negativa ed utilizzare solo e soltanto energia positiva. La loro soluzione, però, non produce uno spostamento a curvatura che può andare più veloce della luce, ma ci si avvicina di molto. Harold White, nel dicembre del 2021 sulla rivista European Physical Journal ha pubblicato un articolo nel quale riportava la realizzazione di una simulazione numerica nella quale è stata ricreata una struttura simile ad una bolla di curvatura, anche se su scala nanometrica, utilizzando una cavità di Casimir. Il cosiddetto effetto Casimir venne teorizzato negli anni 40 del secolo scorso e prevede che, in determinate condizioni, si può sviluppare una forza attrattiva tra due corpi nel vuoto, le piastre dell'esperimento, a causa di una differenza di energia nei campi quantistici tra l'esterno e l'interno della cavità. Il modello del vuoto dinamico suggerisce che lo stato della densità di energia negativa del vuoto nella cavità non è un valore isotropo, cioè costante in tutta la geometria che lo racchiude, ma ha una variazione spaziale con una struttura complessa. Il team ha quindi valutato numericamente la risposta del vuoto nella cavità di Casimir utilizzando una tecnica analitica specifica chiamata Numeri World Line. Durante tale analisi numerica i ricercatori hanno scoperto che questi risultati erano qualitativamente abbastanza simili a una rappresentazione bidimensionale dei requisiti di densità di energia negativa per la realizzazione della metrica di distorsione di Al-QBR. La reale portata di tale annuncio è comunque ancora tutta da verificare. Sempre nel 2021, il fisico Eric Lenz, astrofisico dell'Università di Gottingen, ha descritto un modo in cui potrebbero esistere motori a curvatura alimentati da energia puramente positiva nota e familiare. Lenz ha derivato le equazioni di Einstein per configurazioni di solitoni finora inesplorate, per inciso in matematica e fisica un solitone è un'onda solitaria autorinforzante causata dalla concomitanza, con cancellazione reciproca, tra effetti non lineari e dispersivi in un mezzo di propagazione. Si riscontrano in molti fenomeni fisici, dato che emergono come soluzioni di una vasta classe di equazioni differenziali alle derivate parziali non lineari che descrivono molti fenomeni fisici. In queste equazioni di Einstein per configurazioni di solitoni, Lenz ha trovando che geometrie dello spazio-tempo alterate e si potrebbero formare anche con sorgenti di energia positiva convenzionali, e che la struttura stessa dello spazio-tempo in un solitone potrebbe teoricamente offrire una soluzione ai viaggi ultraluce. L'energia positiva richiesta per deformare lo spazio-tempo, nella sua soluzione, è comunque spaventosa, dell'ordine dell'energia che si otterrebbe convertendo tutta la massa del Sole. Ma l'idea di per sé è decisamente interessante e merita ulteriori approfondimenti. Questi modelli di motori a curvatura basati sulla deformazione spazio-tempo presentano alcuni problemi come quello evidenziato nel 2002 da José Natario che ha fatto notare che i membri dell'equipaggio non hanno modo di controllare, guidare o fermare l'astronave all'interno della bolla spazio-temporale in quanto essa non può inviare segnali alla parte anteriore della bolla. Un articolo del 2009 di Carlos Barcelo, Stefano Finazzi e Stefano Liberati, basandosi sulla teoria quantistica, ha sostenuto che la propulsione di Al-QBR a velocità superiori a quella della luce è impossibile anche perché si genererebbero temperature estremamente elevate causate dalla radiazione di Hawking che distruggerebbero qualsiasi cosa all'interno della bolla, oltre che destabilizzarla. Il problema non si presenterebbe per velocità minori di quella della luce. Brandon McMoneagle, Geraint F., Lewis e Philip O'Byrne hanno sostenuto che se una nave guidata dal QBR decelerasse dalla velocità maggiore della luce, le particelle che la sua bolla aveva raccolto durante il transito verrebbero rilasciate in esplosioni energetiche simili alla radiazione infinitamente spostata verso il blu. Come si è ipotizzato che si verifichi all'orizzonte degli eventi interno di un buco nero di Kerr. Le particelle rivolte in avanti sarebbero quindi abbastanza energiche da distruggere qualsiasi cosa a destinazione direttamente di fronte alla nave. Infine in base ai calcoli del fisico Allen Everett le bolle di curvatura potrebbero essere utilizzate per creare curve chiuse di tipo tempo, che nella relatività generale implicano la possibilità di effettuare viaggi nel tempo a ritroso. Anche se la relatività generale non vieta le curve chiuse di tipo tempo, la congettura di protezione cronologica ipotizza che gli effetti quantistici interverrebbero per impedirle. Alcuni risultati con la gravità semiclassica A sembrano supportare tale congettura, ma solo una teoria completa della gravità quantistica potrebbe dare risposte definitive. In generale, nota al QBR, qualsiasi metodo per viaggiare più veloce della luce può in linea di principio essere usato per viaggiare indietro nel tempo e, per quanto riguarda la congettura di protezione cronologica, anche se la congettura non è stata dimostrata ci sono buoni argomenti a suo favore basati sulla teoria quantistica dei campi. La congettura non vieta i viaggi più veloci della luce. Dice solo che se esiste un metodo per viaggiare più veloce della luce e si cerca di usarlo per costruire una macchina del tempo, qualcosa andrà storto. L'energia accumulata esploderà o creerà un buco nero. Un modello alternativo, alla bolla spazio-temporale, per la propulsione a curvatura è quella di Birka Reim. Questa teoria, tutt'altro che confermata, si basa su una visione rivoluzionaria dell'universo e delle sue leggi, elaborata nella seconda metà del secolo scorso dal fisico tedesco Birka Reim. Essa, in seguito a recenti sviluppi apportati da Walter Droscher e Josh Mauser, prevede l'esistenza di due ulteriori campi di forza che si aggiungono ai quattro noti dalla fisica delle particelle e che, in presenza di un particolare dispositivo, possono dar luogo a una sorta di campo antigravitazionale che potrebbe essere usato per spingere un veicolo nello spazio. In una particolare situazione di campo oscillante, lo stesso dispositivo che genera la spinta antigravitazionale sarebbe in grado di diminuire l'inerzia propria del veicolo eliminando così gli effetti della massa relativistica e consentendo al veicolo stesso di superare di molte volte la velocità della luce. Un'interpretazione di questo fenomeno viene data ipotizzando che il veicolo lasci il nostro spazio ordinario per entrare in una sorta di per spazio in cui il valore della velocità della luce è notevolmente superiore e quindi le astronavi potrebbero viaggiare a velocità molto maggiori della velocità della luce dello spazio ordinario. Questo dispositivo è costituito da un grosso anello rotante di materiale conduttore, il cui rendimento è tanto maggiore quanto più alta è la sua conducibilità, immerso in un potente campo di induzione magnetica bi generato da una bobina sottostante l'anello. Per dar luogo agli effetti antigravitazionali occorre che le due forze extra previste dalla teoria interagiscano con il campo gravitazionale, generando la prima forza extra, detta gravito-fotonica, un campo antigravitazionale repulsivo e la seconda forza extra, detta quintessenza creerebbe la riduzione d'inerzia prima descritta. La rotazione del grosso volano conduttore, dà luogo a un'interazione tra campi elettromagnetici e gravitazionali prevista dalla teoria di Birka-Rheim e consente il fenomeno propulsivo descritto. È essenziale sottolineare che tutti questi sviluppi entusiasmanti sono modelli matematici a cui mancano, per ora, prove sperimentali. Eppure, la scienza della propulsione a curvatura sta diventando una cosa presa sul serio e per dirla con le parole del Capitano Picard di Star Trek. The Next Generation. Una cosa è impossibile fino a quando non lo è più. Questo è tutto. Grazie per la vostra attenzione e dalla prossima.